Buonasera, si sente? Va bene. Grazie di essere intervenuti qui alla Fondazione Corriere della Sera. Questa sera, come sapete, presentiamo l'ultimo libro di Vittorio Gregotti, che è qui al mio fianco, i racconti del progetto pubblicato dall'editore Schirà. Ringraziamo anche l'editore che è qui con noi e a presentarlo ci saranno due persone di primo piano della cultura italiana, oltre che amici naturalmente anche di Vittorio. Maurizio Ferraris, uno dei nostri maggiori filosofi, docente di filosofia teoretica, già allievo di Gianni Vattimo, ha compiuto importanti studi prima nel campo dell'ermeneutica e poi passando a posizioni più realiste, almeno dal 2012, con il Manifesto del Nuovo Realismo. Dirige la rivista di Estetica, collaboratore di Repubblica e poi anche, lo avete visto qualche volta in televisione, per cui è diventato anche un volto popolare, oltre che un raffinato studioso, ricercatore e docente di filosofia teoretica. Alla mia sinistra Franco Purini, architetto, accademico di San Luca, laureato con Cuaroni, è stato docente a Venezia e a Roma, accademico delle arti del disegno a Firenze, suo l'attore di Eurosky a Roma, suoi interventi a Gibellina, sostenitore, come si dice, di un'architettura disegnata, come si diceva una volta. Siamo qui quindi, per parlare di questo libro, io provo a introdurlo in un paio di minuti e poi passo la parola prima a Maurizio Ferraris e poi a Franco Purini. Gregotti aveva già pubblicato un libro dal titolo simile, che si chiamava Racconti di architettura, nel 98, che presentava delle relazioni prodotte dal suo studio. Questo libro che cosa contiene? C'è una formula di Morpurgo nella posfazione, che forse è qui con noi, che lo sintetizza molto bene. La tesi del libro è restituire alla formazione discorsiva dell'architettura il ruolo di fondamento della pratica realizzativa. Restituire alla formazione discorsiva, quindi al discorso critico e al discorso fenomenologico del fare architettura sul tavolo del disegno o dei nuovi strumenti oggi a disposizione, il ruolo di fondamento della pratica realizzativa. Quindi il suo, Gregotti, pone, sottolinea l'importanza del percorso di disvelamento, diciamo così, del progetto nel suo farsi, come elemento discorsivo che nasce dal confronto e dalla mutazione con una serie di realtà con le quali l'architetto si trova a dover operare. In questo modo l'architettura diventa quella modificazione critica della realtà che per Vittorio Gregotti è il ruolo che l'architettura è chiamata ad assolvere e che decisamente oggi non assolve e comunque va in una direzione completamente diversa. Si toccano nel libro numerosi aspetti. Innanzitutto ci sono alcune puntualizzazioni critiche da parte di Gregotti, a volte una valutazione del contesto urbano che è stata fatta negli ultimi anni in maniera non appropriata, l'accentuazione del dato tecnico e finanziario come fondativo dell'architettura contemporanea, dove il dato tecnico non è più diventato un mezzo, ma su questo Ferraris potrebbe tranquillamente, è un tema sul quale naturalmente la filosofia contemporanea si è molto interrogata, la critica alla decorazione postmodern, la critica alla finanziarizzazione globalista. Per Gregotti invece proprio il progetto, il disegno come atto critico che può riassumere tutta una sommatoria di esperienze di carattere memorativo, collettivo, eccetera, dal quale nasce questa idea, questo progetto come modificazione critica della realtà. Insomma il libro quindi sviluppa questo tema con una serie di esempi, anche opposizioni sui modi di fare che l'architetto ha avuto e che oggi a volte non ha, ha perso lo sviluppa in maniera diversa, sino a evidenziare, diciamo così, e qui concludo la mia introduzione, quattro virtù, come quattro virtù proprie del progetto d'architettura, precisione, semplicità, organicità, ordine, come dire, vie da seguire e intorno a questi costruisce una serie di relazioni problematiche del progetto contemporaneo. Passerei la parola a Maurizio Ferraris che meglio di me può mettere in luce alcuni aspetti che emergono dal testo di Gregotti e anche dalla sua attività e dalla frequenza con la quale insomma in tutti questi anni abbiamo seguito le sue riflessioni teoriche. Grazie, Pierluigi Panza è esagerato, non farò certo meglio di lui ma forse un po' diversamente da lui perché appunto io rispetto a quelli che si intendono davvero di architettura sono essenzialmente come la maggior parte delle persone un utente e in certi casi una vittima, quindi innanzitutto come vittima, come cavia, come cosa che parlo e devo dire che come vittima mi trovo molto bene nella definizione che Gregotti in questo libro dà dell'architettura a un certo punto ed è quella del ritratto di un caos in attesa di futura riorganizzazione. Effettivamente questo è l'impressione che ci dà l'architettura adesso come tantissime altre cose del resto, cioè non è soltanto l'architettura, uno potrebbe dire anche il disordine sulla scrivania di qualcuno oppure per esempio quello che si vede in un museo d'arte contemporanea, effettivamente Gregotti fa spesso l'esempio, l'analogia con l'arte contemporanea, non nel senso che l'arte contemporanea sia priva di valore, ma nel senso che l'arte contemporanea deve a tutti i costi stupire, questo è il compito fondamentale perché, ma io ho l'impressione che è semplicemente perché è un po' cambiata la committenza, cioè una volta quando il committente era un principe o un papa non è che avesse bisogno di essere guidato in qualche modo, sapeva, fra l'altro le tradizioni erano molto più vincolanti e quindi andavi da un pittore e ti facevi fare una cosa e sapevi che cosa ti dava e così valeva anche per gli architetti, c'erano queste grosse committenze. Le cose cambiano molto quando la committenza diventa una committenza borghese, non voglio ridurre questo semplicemente a un fatto puramente sociologico, però è ovvio che quando tu hai delle persone che devono essere informate attraverso dei mass media, devi per forza di cose puntare su qualcosa che sciocchi, perché se invece è qualcosa che non stupisce nessuno o che fa parte della tradizione, magari è perfetto ma fa parte della tradizione, nessuno lo nota, nessuno se ne accorge. Sapete bene che l'icona per eccellenza dell'arte così come la viviamo noi e cioè la gioconda Monarisa di Leonardo sostanzialmente deve la sua notorietà al fatto che a un certo punto l'hanno rubato dal Louvre, ne hanno parlato tantissimi giornali durante il periodo del furto e poi quando è ritornata è diventato l'oggetto d'arte per eccellenza, mentre prima era una delle tante opere significative di Leonardo. Lo dico perché parlavamo prima dell'ultima opera di Pierluigi Panza che si riferisce ad un altro che non so che non l'hanno rubato ma l'hanno ritrovato un Leonardo eccetera ma ci spiegherà meglio lui. Ecco, l'architettura si trova nella stessa situazione e questa è l'analisi che ne fa Gregotti con un aggravante e cioè che l'architettura primo è molto durevole, molto visibile, almeno in linea di principio, cioè l'architettura è imponente, l'arte per quanto grande sia non potrà mai essere così grande come l'architettura e poi soprattutto l'architettura deve essere abitata, cioè ci sono delle persone che abitano questa architettura mentre difficilmente uno abiterebbe dentro ad un quadro o dentro ad un'installazione, beh se lo vuol fare buona fortuna ma comunque in generale questo non succede, se le mette in casa ma non è casa sua o l'edificio in cui lavora e da questo punto di vista questa specie di quattro promemoria per il nostro millennio che sono le quattro regole di stile che vengono date da Gregotti devono essere prese molto sul serio perché sono un invito importantissimo a considerare che l'architettura è qualcosa che appunto non può essere puro concetto, non può essere pura tecnica, il progetto è qualcosa che deve per esempio dialogare con l'utente, non puoi non considerare una cosa di questo genere, se pensate uno pensa questo è ovvio, no non è ovvio perché per esempio nell'arte c'è stata l'idea di nuovo nel novecento molto che che cosa sia arte lo decidono quelli dello art world, del mondo dell'arte, c'è un certo numero di galleristi e di critici d'arte, di esperti eccetera che decide questo qua è un'opera d'arte, non c'è un criterio intrinseco dell'opera è un criterio che viene attribuito all'opera e che si può si può anche fare però molto difficilmente puoi mettere insieme delle persone che dicono questa è una casa se poi non lo è, cioè deve rispondere delle cose e notoriamente chi giudica della bontà di un prodotto, questo lo diceva anche Platone non è chi lo fabbrica ma chi lo usa perché è quello che lo usa che sa se questo questa quest'opera va bene oppure no. Allora faccio degli esempi appunto sono chiamate le memorie di una vittima che sono di quattro infrazioni esemplari dei principi di precisione, semplicità e organicità e ordine che Gregotti dà come regole auree per un'architettura a venire. Allora precisione cioè precisione intanto deve essere il dettaglio del progetto è un po come allora ci sono certi professori che a un certo punto ritengono una grandissima idea quella di farsi scrivere i libri dagli altri perché loro hanno altro da fare sì effettivamente sembra una grandissima idea però se la vuoi attuare devi almeno aver cura di spiegare a chi deve scrivere il libro che cosa vuoi che scriva e quindi prendere essere preciso nelle indicazioni se invece uno dice ma fa una cosa che sia un po così eccetera eccetera e quello sta al libro scritto come il progetto impreciso sta all'opera conclusa cioè ne può venire fuori qualunque cosa e generalmente chi non ci ha pensato poi il risultato può essere pessimo perché i problemi emergono nei dettagli cioè la precisione ti segnala anche questo che giusto appunto come si dice sulla carta i conti non dico che tornino sempre ma persino in una cosa come il pensare l'avere delle idee nel momento in cui devi precisarle magari ti rendi conto che sono inconsistenti quante volte succede questo è tipico dei professori che entri in aula sei convinto di avere capito quello che stai per dire e poi a metà ti rendi conto che non avevi capito ed era soltanto nello spiegarlo è solo che se ne accorgono anche gli altri sono momenti bruttissimi della vita didattica di una persona però di nuovo anche qui almeno il giorno dopo ti puoi correggere e la cosa non è perenne ovvio adesso siamo tutti registrati quindi una scemenza potrà essere ripetuta all'infinito perché perché registrata è vero è vero il fatto che è proprio nel dettaglio non che si nasconde il buon dio il demonio ma c'è il momento in cui tu precisi qualcosa allora un'architettura vaga non è una grandissima architettura per inciso ci sono anche dei grandissimi architetti che cedono a questa questa specie di debolezza che più che l'idea della vaghezza e non pensare poi che le cose dovranno servire a qualcosa faccio il caso di un grande architetto prima cavia di un grande architetto alvaro sisa che indubbiamente un grandissimo architetto che però come dire a un certo punto io faccio parlo di ciò che so lui ha fatto una ristrutturazione molto bella del museo madre di napoli che era un edificio con niente di speciale solo antico lui l'ha ristrutturato ha fatto delle cose molto belle problema era convinto che le prese della luce siano brutte perché non stanno bene quei due buchi li non stanno bene non sono non sono coerenti risultato ha messo nessuna presa della luce perché è così lo so perché una volta bisognava fare delle riprese lì dentro solo che non c'era e dall'altra per la stessa idea secondo cui non sono bellissimi in quei due buchi lì anche gli interruttori non sono degli oggetti bellissimi per cui per minimizzare il danno ne ha messo uno solo e quindi c'è un unico interruttore generale che accende tutto nel palazzo per cui se uno per caso avevo parlato col direttore che dice ma io certe volte mi trovo a lavorare qua la sera però devo usare una pila perché sennò consumi troppa energia elettrica per per tutti quanti quindi questo per esempio era riflettere su su un dato anche minimo io poi lo so che erano le migliori intenzioni la cosa della bellezza c'è sempre l'idea che il pulsante brutto e quindi per lo stesso principio non riesce mai a trovare il pulsante le stampanti avete fatto caso è sempre nascosto molto beh secondo me perché c'è qualcuno che pensa che è brutto poi la semplicità secondo principio dopo la precisione ecco appunto giustamente gregotti dice beh certo fare le cose semplici attira poco l'attenzione perché come dire sono buoni tutti a parte che non è vero che sono buoni tutti a fare le cose semplici però poi dopo uno può anche essere semplicemente stravagante e allora quello appunto come dire marino quando diceva che il fine del poeta la meraviglia diceva sì però attenzione non sto dicendo che uno deve essere stupefatto in negativo di quello che hai fatto deve essere accidenti che bello e di nuovo questo non è sempre non è sempre così e qui l'esempio classico e peter eisemann il quale è un illustre architetto non sempre fa delle cose chiarissime e c'è stato un dialogo impressionante autentico tra lui e jacques derrida nel senso che derrida è questo grande filosofo scomparso da ormai nel 2004 che a un certo punto è diventato suo malgrado cioè poi non è che lui si opponesse ma sicuramente lui era teorico di una disciplina di una corrente filosofica che si chiama decostruzione e hanno pensato di fare l'architettura decostruttiva badate bene decostruttiva già uno che ci riflette un momento ma non potrebbe fare una cosa proprio proprio l'architettura decostrutta il decostruzionismo architettonico suona male però è ovvio invece da un punto di vista come dire dell'attrarre la curiosità la decostruzione architettonica funziona magnificamente perché uno dice un architetto che costruisce e cosa vuoi che faccia questo che decostruisce avrà qualcosa da dire però poi una volta che sei un architetto decostruttivo che cosa fai complicato e infatti aveva pensato di fare una casa insieme a derrida anzi un'opera che si chiamava coral work insieme a derrida derrida aveva fatto un disegno così ma scherzando e lui ha cominciato a fare un progetto intero su tutta questa roba e ovviamente dopo un po derrida era preoccupato perché diceva ma qui non ci sono le finestre poi le porte come si fa e se piove eccetera quindi ha detto senti peter io ti propongo questo contratto adesso tu fai il sognatore il teorico il filosofo decostruzionista io mi occupo delle altre cose cioè delle porte che chiudono ferrami serramente cose di questo genere che pensare di dover ridurre derrida a occuparsi delle serramenta di e questo era un problema tant'è se possa entrare poi come dire fattosi forte di questo tipo di esperienza derrida che abitava in un villino nella seconda periferia parigina a un certo punto aveva bisogno di un diciamo così una dependance un'estensione perché perché non c'era spazio dentro dei libri da mettere insomma poi non buttava via niente quindi aveva bisogno di spazio allora c'era questo c'è tuttora questo pittore suo grande amico valerio adami che dice no ma allora magari chiedo a qualche grande architetto di non preoccuparti è andato da un'impresa dei paraggi si è fatto fare una cosa senza artene parte lì perché appunto temeva che poi mi piovesse dentro ora per inciso e questo deve essere anche una cosa che fa riflettere lo studio di Heisman invece bellissimo del tutto normale cioè lo fa per gli altri per sé invece l'organicità e l'organicità ecco io per esempio ho passato lunghi anni della mia vita quasi 40 anni facendo i conti in generale nell'opera più disorganica dell'universo che è la sede delle facoltà umanistiche a Torino si chiama Palazzo Nuovo opera di Levi Montalcini che era un illustre architetto anche con grandissime letture poi se parli con un architetto questo ti spiega benissimo quali sono i valori intrinseci di questo progetto che non mancano il problema poi ci sono stati anche fatti cioè che doveva essere disposto diversamente e lì di nuovo molto spesso l'architetto ha un progetto però la realizzazione è diversa e il progetto viene guastato il risultato comunque è di una cosa organica nel senso negativo cioè sottoposta alla degradazione che ogni oggetto organico subisce cioè l'organismo che va verso la morte va continuamente riparato io vedo questo oggetto che viene riparato per poi ovviamente c'erano le cose che erano comuni a tutti gli edifici dell'epoca che hanno creato problemi a tutti in particolare il fatto che ci fosse l'amianto dentro ma all'epoca non si sapeva e non si pensava insomma questo oggetto è stato per me e per tantissime altre persone una tortura continua perché uno dice ma avevi pensato sul fatto che se deve essere un edificio universitario non bastano due ascensori per salire su avevi pensato che avranno probabilmente delle biblioteche quindi devono essere ci devono essere le strutture in grado di reggere queste biblioteche eccetera no non l'aveva pensato ma probabilmente anche perché non gli erano detto allora anche questo probabilmente un fatto la committenza è spesso una committenza pubblica e impreparata appunto mentre il principe o il vescovo diceva vorrei la casa fatta così così e così questo palazzo fatto così e così e così magari c'è un amministratore che lì ci sta un anno ma faccia un po lei e quello quello fa dando scassissime cose ultimissimo punto la questione dell'ordine e questo qui finisco sulla sulle sulle mie memorie di vittima ed è molti anni dopo questo palazzo nuovo a torino è stato fatto un'altra sede universitaria molto bella fatta da norman foster questo grande campus luigi e inaudi che effettivamente molto bello poi complice all'amianto e cioè che è stato reso inutilizzabile per un po quello vecchio ho avuto la possibilità di trasferire il mio ufficio in quello nuovo e sono contentissimo sebbene fossi un non avente diritto perché era soltanto per altre facoltà eccetera però come vittima come rifugiato ho avuto modo di avere di avere un posto lì dentro però anche lì c'è una cosa strana cioè il progetto è perfetto è realmente perfetto ci sono come spesso succede piccoli problemi esecutivi perché per esempio l'architetto aveva detto una cosa cioè che si dovevano usare degli speciali vetri per ridurre la dispensione del calore questi vetri non sono stati adoperati quindi il risultato è che fa caldo d'inverno freddo contrario e comunque quello non è colpa dell'architetto però oppure per entrare in tutto questo edificio che era stato pensato per stabilire una continuità con altri edifici universitari però tutta la fronte dell'edificio è orientata dall'altra parte guarda dall'altra parte quindi come si adesse la schiena a tutti gli edifici che ho da fare e si entra da un pertugio largo così erotto con un cancello di ferro arrugginito che apparteneva a una struttura differente e per arrivare di lì venendo dalle altre parti dell'università dagli altri edifici che e poi come ironia dentro c'è un piano che ti fa vedere la perfetta coerenza dell'allineamento di questo con gli altri edifici sì però il problema è che questo è stato disegnato ma quello che è successo non è non è non è stato non è stato disegnato un'ultima parola e temo di averla tirato troppo lunga e mi scuso molto un'ultima parola su un punto molto importante che ci racconta gregotti in questi racconti del progetto cioè appunto racconto del progetto non è semplicemente appunto che il progetto diventa una favola qualcosa di evanescente no ma che un buon progetto deve avere una coerenza stilistica e narrativa nessuno leggerebbe un libro in cui come dire non c'è coerenza narrativa o meglio ci sono stati dei tentativi ma si è smesso subito perché si è smesso perché diversamente che in un'opera d'arte visiva che basta che convinca uno che se la compra e l'artista riesce a sopravvivere il problema per esempio è che un racconto deve essere letto da tanti apprezzato da tanti perché se no il narratore non sopravvive e che in un certo senso l'architettura ha molto più a che fare con la narrazione cioè deve essere letta da tanti piacere a tanti essere compresa da tanti rispondere ai bisogni di tanti che non invece all'opera d'arte che può piacere anche a uno solo se piace a lui sono contenti tutti e questo fatto per cui l'architettura sembra essere più legata al visivo e quindi avere più a che fare con l'arte visiva ci fa dimenticare che probabilmente invece ha molto molto a che fare con la letteratura cioè deve raccontare delle storie in cui le persone si ritrovino e che siano comprensibili dalla parte delle persone ringraziamo Maurizio Ferraris che ha già toccato diversi temi che malamente riassumo ma ho visto che Vittorio ha già preso nota quindi poi potrà rispondere nel suo intervento almeno uno per ciascuno di queste di queste quattro vie maestre che hai delineato nelle memorie di una vittima la vittima è Ferraris emerge sempre qualcosa l'ossessione per il Lessis Mora che nel caso di Siza mette sotto accusa la questione ormai quasi vecchia del rapporto tra architettura e filosofia degli architetti che scimmiottano i pensieri dei filosofi i filosofi che un po' si compiacciano di fare gli architetti ma poi si trovano insomma in un mondo che non gli appartiene oggi poi abbiamo ricordato per l'appunto Viriglio sui giornali e questo è molto importante perché tu hai riflettuto sull'architettura tutta la vita quindi sei proprio come dire un nodo di questo passaggio tra l'altro alcune riflessioni no sempre di queste memorie della vittima sembravano ricordare anche un po' quelle di Roger Scruton su questi edifici decostruttivisti dove piove dentro dove non c'è la porta eccetera eccetera quindi si possono fare dal punto di vista della vittima delle narrazioni straordinarie perché ce ne sono di tutti i colori l'inadeguatezza della committenza che è un altro tema che nel dipanarsi del progetto nella narrazione del progetto sempre emerge ha fatto il caso dell'edificio di Levi Montalcini e poi quando ho parlato di ordine è emerso anche un tema che pure è stato ricorrente anche per una tua esperienza quella dello zen ovvero della discrasia tra il progetto e la sua realizzazione perché poi la committenza va da una parte il progetto va da una parte dall'altra non si riesce più a parlarsi poi risponderai e passo però la parola a Franco Purini Grazie 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 è chiaro e difficile nello stesso tempo, è una qualità che si ritrova sempre nella produzione saggistica di Vittorio Echegotti, lì per lì si scorrono le sue riflessioni con molta scioltezza, poi ripensandoci invece emerge la loro complessità. In effetti l'immagine mentale che mi è venuta in mente dopo aver letto due volte più altre riprese, perché questa discussione doveva avvenire prima, quindi l'avevo letto in previsione di quella prima dell'estate e poi dopo l'estate per prepararmi a questo incontro, mi è venuta in mente l'immagine che è duplice, l'associazione tra un cubo e una spirale, che in qualche modo mi è venuta fuori dal titolo di un famoso testo di Tafuri La Sfera e il Labirinto. Questo perché? Perché il libro ha una sua fortissima solidità e il cubo nell'iconologia è proprio il simbolo della fermezza e della durata. La spirale è invece il simbolo di un movimento che si allontana sempre secondo diciamo circonvoluzioni che mantengono però il centro, c'è sempre lo stesso centro, quindi c'è da una parte questa stabilità, dall'altra questo grande dinamismo nell'esporre le proprie idee. Quindi le mie considerazioni velocissime sono all'interno di questa duplicità, infatti credo sia un libro straordinariamente duplice, poi vedremo perché. Però volevo ricordare una cosa che tutti sanno ma la voglio dire perché è importante dirla, che gli esordi saggistici di Vittorio Ricotti risalgono ai suoi contributi in Casabella e poi al libro, diciamo, all'anno fatidico del 166 in cui oltre al suo libro esclisce Complicità e contraddizione dell'architettura di Robert Venturi e dell'architettura della città di Aldorossi. Probabilmente mai nella storia dell'architettura moderna, in un anno solo sono usciti tre libri così importanti. Già dal primo libro si dichiara da parte di Gregotti la sua, per così dire, chiave di lettura dell'architettura, che è una chiave soprattutto filosofica, che è molto diversa dalla mia, perché la mia invece è di tipo formale. Io non sono un esperto, diciamo, di filosofia, avendo anche frequentato un liceo scientifico dove c'era filosofia ma non era, diciamo, un argomento approfondito come nel liceo classico, che credo Vittorio abbia frequentato. E quindi io preferisco un approccio di tipo formale, però riconosco appunto nella scrittura di Vittorio alcune costanti che sono la presenza del pensiero della scuola di Francoforte, il rapporto con lo strutturalismo, con la fenomenologia, ma direi soprattutto come scelta personale anche una grande vicinanza ai temi letterari e ai temi artistici. Quando dico letterari mi rivolgo soprattutto a quel periodo tra anni 50 e inizio anni 60 che è stata l'Ecole du Regal, vuol dire appunto già una letteratura che puntava molto sull'opposizione, perché io vedo un'opposizione in realtà poi ci tornerò velocemente più tardi, fra racconto e narrazione, non sono la stessa cosa, sono due cose che noi riteniamo comunemente simili, ma quando si vanno a indagare sono abbastanza diverse. Rispetto a questo impianto concettuale che Vittorio Gregotti preferisce, associo una mia, quindi leggo i testi di Gregotti dal punto di vista delle mie vocazioni a cogliere gli aspetti compositivi dell'architettura, è quello l'aspetto che mi interessa. E quindi emergono una serie di valutazioni anche delle affermazioni di Gregotti con le quali molte volte in quasi tutte concordo, però all'interno di alcune differenze. Per esempio, quando leggo un libro di Gregotti mi viene in mente da studente quando ho letto Il territorio dell'architettura, che è un libro che mi ha profondamente segnato. E ho imparato, leggendo i libri di Vittorio e anche altri testi ovviamente, e anche seguendo le mie inclinazioni, che il problema dell'architetto, prima ancora di porsi i problemi che ha ricordato Ferraris, cioè questo rapporto e poi l'architettura con la vita personale diciamo e collettiva, è un processo strano che si innesta da parte dell'architetto con un atto volontario che consiste nel dar vita a una concatenazione grammaticale, la quale da un certo punto in poi viaggia automaticamente, da sola, quindi io individuo un tema compositivo sul piano grammaticale, quindi sul piano elementare, questa associazione di due o tre elementi comincia a sviluppare una serie di fasi successive, diventando sempre più complesso, fino a entrare nel territorio sintattico. In quel momento, secondo me, l'architetto deve essere capace di tagliare, di chiudere. Quindi l'atto creativo e anche conoscitivo dell'architetto, secondo me, posso anche sbagliare, ma è la mia opinione, mia convinzione profonda, l'atto creativo dell'architetto non è tanto nel dare vita a questa associazione grammaticale che esita nella sintassi, ma fermarsi prima, cioè scegliere il momento in cui interrompere questa catena. Credo che il più grande rappresentante di questo processo così segreto, che poi Chomsky a suo modo ha interpretato per quanto riguarda la linguistica, è stato Terragni. Quindi troviamo questo modo di procedere così difficile, perché se si sbaglia, secondo me, il momento in cui si interrompe questa sequenza autogenerativa, il risultato non si può ottenere. Io sono anche convinto che questo riguardi anche scritture diverse da quella architettonica, riguarda l'arte pittorica, l'arte plastica, il teatro, la danza, il cinema, pensiamo al montaggio, per esempio, che è proprio questo. Quando taglio una sequenza la faccio seguire da un'altra. E quali sono poi, diciamo, com'è la costellazione di pensiero concettuale che emerge dalla lettura di Vittorio Grotti? Secondo me bisogna fare un po' una specie di elenco, sarebbe molto lungo, ma mi limito a citare alcune delle sue categorie, che appunto definiscono il mondo architettonico di Grotti. L'architettonico è una pratica artistica, e qui c'è una differenza che io vorrei mettere in evidenza fra me e lui. Per me l'architettonico non è una pratica artistica, nel senso che non è un'attività nella quale rientrano alcuni elementi del procedere artistico, ma è un'arte. Quindi non è semplicemente un'attività, è proprio un'arte. Un'arte tra l'altro ambigua, perché vive in una specie di associazione conflittuale con la scienza. Quindi è un'arte che deve passare attraverso le forche caudine della scienza per essere arte. Cosa che per esempio non avviene in altre espressioni artiche, in altri linguaggi, come esempio nell'arte plastica o figurativa, questo passaggio non è necessario. Quindi la pratica artista, la dialettica tra autonomia ed eteronomia, che ricorda molto spesso nelle pagine di questo libro, il rapporto tra fondamento e circostanza. Cioè si hanno delle convinzioni, ma queste convinzioni sono sempre messe alla prova dalle circostanze appunto in cui noi facciamo il nostro lavoro. L'idea di principio insediativo, l'idea di territorio, la modificazione, l'antropo geografia, la distanza critica, il montaggio, l'interesse per la tradizione del nuovo ereditato da Harold Rosenberg, l'idea di materiale, lo simono appunto di Rosenberg che ispira molte delle considerazioni di Gregotti, ma sicuramente ho dimenticato qualche elemento. A questo aggiunge però in questo libro un altro tema, non posso entrare nel merito perché non c'è tempo, è appunto il racconto e la narrazione. Che cosa è il racconto? Il racconto è la restituzione di una vicenda attraverso le parole, che può essere ovviamente più o meno veridica come l'aggettio che adoperrebbe Longhi. Il racconto è questo. La narrazione è qualcosa di molto diverso, è l'insieme delle atmosfere, delle motivazioni e quindi della finalità che queste vicende hanno su un piano più elevato. Quindi il racconto è, io riferisco la sequenza di fatti che sono avvenuti in un certo periodo. Quando li narro passo su un piano non tanto espressione, ma proprio di contenuto molto più alto, nel quale per esempio alcuni elementi io posso intuirli ma non spiegarli. I progetti architettuali non si spiegano mai. Chi è capace di spiegare, non ho mai trovato uno storico che abbia spiegato qual è il senso architettonico della rotonda palladiana. Possiamo avvicinarci, possiamo intuire qualcosa, ma rimane sempre nelle spiegazioni, nelle narrazioni dell'architettura un quid di misterioso. Che è poi la differenza tra, in qualche modo, tra scienza e arte. Quindi la componente scientifica dell'architettura con la quale la componente artistica lotta costantemente, può essere definita e ha una sua oggettività concreta. Pensiamo al Ponte di Morandi, per esempio. Invece l'aspetto artistico rimane sempre a qualcosa di superiore. Noi possiamo arrivare a definire quasi tutto e improvvisamente ci accorgiamo che quell'opera nel corso del tempo ha cambiato significato. In breve, è come se Palladio non avesse mai smetto di progettare la rotonda. La aggiorna fase per fase. Quella che noi vediamo oggi alle falle dei Monti Iberici non è esattamente quello che aveva pensato, ma una nuova creatura scaturita dal suo stesso pensiero. Un altro argomento, per esempio, che emerge dal libro sul quale sarebbe bello discutere con Ferrari, se soprattutto, ma se ci fosse tempo o in un'altra occasione, nel rapporto tra architettura e realtà. È chiaro che la dimensione del realismo è endemica all'architettura, ma non basta. Non si può fare un'architettura valida soltanto se interviene ascoltando la realtà. Bisogna fare di più. Io qui voglio citare uno slogan storico, sempre più vero, coniato dal maestro di Gregotti, che è Ernesto Rorgis, è l'utopia della realtà, che in realtà è un'affermazione molto difficile da capire, perché non si sa bene cosa volesse intendere, almeno io non capisco esattamente cosa voglia dire, se bisogna introdurre nella realtà vettori di cambiamento di natura, di matrice utopica, o se la realtà stessa è già un'utopia. In qualche modo ciò che vediamo potrebbe non essere quello che crediamo noi, qualcosa che ha una sua meccanica, ma che già nasconde una sua potenzialità, che sta a noi in qualche modo decifrare. Accettiamo questa ambiguità. Un'altra cosa poi, sempre rapidamente, concludo con una impressione, anzi con una convinzione che il libro di Vittorio ha rafforzato in me, è che il suo mondo, che è il mondo mio e tutti gli architetti fino alle generazioni, che non riguarda le ultime generazioni, il mondo diciamo fino agli architetti nati più o meno nei miei anni, gli anni 40, eccetera, hanno che cosa? Una visione della teoria e della conoscenza architettorica, della conoscenza anche del progetto, in questa duplice forma, appunto, racconto e narrazione, che non sono la stessa cosa, di tipo prospettico. Mi dimenticavo di citare fra le tue categorie la distanza critica. Cos'è, diciamo, il vedere prospettico? Cos'è stato nell'umanesimo questa rivoluzione? significa sostituire allo sguardo collettivo e spiritualizzato della scolastica, della teologia medievale, che quindi si ragionava per grandi categorie collettive, una visione personale nella quale contava misurare il mondo e calcolare esattamente le relazioni fra le sue parti e quindi avere noi la responsabilità di narrare appunto il mondo e di comprendere nel suo funzionamento, nella sua forma, eccetera, eccetera. Ora, è all'interno di questo vedere prospettico dell'architettura che si colloca il libro di Vittorio, sia nell'immagine cubica che io ho avuto, sia nell'immagine a spirale, perché la spirale non è che l'asse, diciamo, di veduta frontale che viene, diciamo, deformato attraverso l'energia che la realtà tessa sprigiona, quindi questa retta viene curvata e viene tesa. Quindi, per esempio, la visione prospettica presuppone la coscienza che il futuro discende dal passato attraverso il presente. Quindi noi prospettici, diciamo, formati negli anni 40, nella modernità, fino agli anni 40, io mi sono iscritto in facoltà nel 1961-62, dopo una bocciatura imprevista al liceo, quindi con un anno di ritardo, pur avendo la media del 7,5, rimandato con 5 in fisica e con 5 bocciato, una cosa che mi ha reso capace di intendere e di volere che ti ringrazia ancora quel professore di fisica che ebbe questa bella idea. Ecco, diciamo, questa dimensione prospetti è stata sostituita nel vedere contemporaneo da una prevalenza assoluta del presente, cioè dello schiacciamento di tutte le prospettive che noi abbiamo di noi nell'immediato. Ed è un effetto sicuramente dovuto al dilagare della comunicazione a tutti i livelli. Vittorio Gregotti, non l'ho detto prima ma lo ricordo adesso, è stato l'unico protagonista architetto del gruppo 63 che inventò, importò in Italia il problema del sapere all'interno dell'industria culturale. Io mi ricordo questo passaggio romano in cui la sera io lavoravo in uno studio a Piazza del Popolo, si scendeva con il mio maestro Sacripanti da Rosati ed era normale per ciascuno, anche per un ragazzo come me di 20 anni, bere accanto a Fellini e parlare con lui. Fellini, attori, registi, attori, insomma letterati, era meraviglioso. Umberto è come lo ricordo sempre attivissimo da Rosati, era presentissimo perché aveva impegni romani molto fitti e anche molti membri del gruppo abitavano a Roma e improvvisamente questo rapporto invece si rompe. Con l'andare avanti dell'industria culturale gli intellettuali e i registi vanno in televisione. Mai più una parola nel corso delle lunghe serate nei ristoranti e nelle trattorie attorno del tridente, mai più conversazione da Rosati, ma programmi televisivi in cui gli autori vendevano per così dire le loro idee a un pubblico vastissimo. Quindi nel mondo della comunicazione tutto si presentifica. È come se mi vese con davanti uno schermo che annulla la profondità temporale. Tutto avviene in un effimero continuo, se è possibile adottare questa contraddizione. Un effimero continuo. Se vi ricordate una scena di quel meraviglioso film Hollywood Party, a un certo punto entra un elefante dipinto dai giovani hippie e c'è scritto sull'elefante Il mondo è piatto, che è il tirio di un libro uscito una ventina di anni fa che appunto leggeva la totalità del nostro tempo nella piattezza dello schermo del computer. E quindi il libro di Gregotti in qualche modo rivendica la necessità di non superare il modello prospettico, ma di metterlo a confronto con una situazione completamente diversa, totalmente alternativa. E secondo me non propone di tornare a questa prospettiva che la modernità ha avuto del futuro nel presente rispetto al passato, ma di contaminare i due mondi. Credo che l'essenza positiva, perché noi architetti dobbiamo essere positivi per forza, non possiamo essere troppo dubitativi. Io mi sono laureato con un maestro del dubbio che era Ludovico Quaroni, con il quale ho avuto per tutta la vita poi uno scontro su questo problema. L'architetto non può dubitare, l'architetto deve avere i suoi dubbi ma poi deve scegliere. E l'architetto non può interessarsi di alcune dimensioni dell'esistenza umana, tipo la sofferenza e il dolore, l'incertezza, il disagio. Questo riguarda i filosofi, i letterati, gli artisti. Io non posso entrare in una casa, la mia, che mi ricordi che morirò. No! La casa deve in qualche modo suggerirmi l'idea di una mia virtuale eternità, mi deve far sentire felice, ma lo dice Le Corbusier, non è che lo dico io. Il libro di Vittorio, secondo me, il messaggio che io ho letto, implicito ovviamente, è che questa tradizione moderna, la tradizione del pensiero prospettico, deve scontrarsi con la novità, ormai novità da qualche decennio, della superficie, dello schermo, il mondo piatto, per cercare di trovare punti di contraddizione attraverso i quali introdurre elementi nuovi che vengano dalle due modalità, ma che siano capaci appunto di costruire nel tempo la tradizione di un nuovo, per dirla con Rosenberg, che ci consenta di andare avanti. Io penso che questo compito non aspetti più a noi, la generazione a cui appartengo, che è molto vicina come tematica a quella di Vittorio, non ha tempo per farlo. Quindi sono le giovani generazioni che a partire da libri come questo, i racconti dell'architettura, possono intraprendere questo tentativo di mediazione che sarà molto difficile, molto lungo, ma che probabilmente correggerà questa dissipazione, non neanche formalistica, questo consumismo logorante che ci prende quando vediamo una foto di un ammasso di grattacieli in qualche nuova città della Cina o in qualche città dell'ex terzo mondo o in una città terribile come Abu Dhabi, dove c'è una specie di spreco drammatico di ciò che non è più neanche un immaginario, ma è l'uso mercantile di un immaginario che rimane proprio vuoto, con dentro nessun contenuto che veramente ci entri dentro e ci faccia capire che possiamo vivere in un abitare che si migliori costantemente. Perché poi per chiudere il nostro lavoro molto semplicemente è questo, migliorare l'abitare. Mi ricordo una conferenza nel 68 di Calvano della Volpe che venne in facoltà e alla fine gli chiedemmo, professore, ma che cos'è per l'architettura? E lui rispose molto semplicemente, case belle per i più. E questa risposta è straordinaria e trovo che ancora oggi sia una delle lezioni più belle che abbia mai ascoltato. Grazie. E grazie anche a Gregotti. Grazie anche a Franco Purini, anche dal suo intervento. Vittorio hai potuto trarre molte suggestioni. Intanto per quella differenza racconto, narrazione, il chiedersi se l'architettura debba avere un senso. Che poi è un interrogativo che si trova anche in un breve saggio proprio di Derrida Psyche, quello un po' tirato per i capelli, gli fanno, poi Ferrari se ne sa di più, un po' tirato per i capelli, gli fanno scrivere penso anche questo saggio e che poi tutto su questo, in fondo su questo tema, se l'architettura debba avere un senso, una struttura generativo trasformazionale praticamente, alla Chomsky, quella di cui parlava Purini, rapporto autonomia-eteronomia, realtà, utopia della realtà, effimero d'architettura. Insomma, ci sono tanti temi e penso che tu intanto, insomma, possa rispondere a tutte queste suggestioni che sono venute. Beh, rispondere non credo, sono troppe. Però posso cominciare intanto a ringraziare le persone che ci sono qui, da me, sia Maurizio Ferrari, Schiapancia, Franco Purini, con cui ho avuto molte avventure anche di progettazione comune, quindi ci siamo concretamente visti. Mi spiace che l'architetto Maurpurgo non sia venuto perché è malato, ma quello che è importante per me è, diciamo, è che ci siano punti di vista diversi, perché la prima cosa a cui devo rispondere è che questa relazione tra progetto e racconto, io l'ho scritto apposta perché non sono i racconti dell'architettura, sono i racconti del progetto, cioè sono i racconti del modo col quale si costituisce un'architettura. E quindi, per un certo verso, è un libro forse molto diretto all'azione che l'architetto compie quando fa il progetto, è un tentativo di spiegare in che modo possa essere fatto, quali sono gli errori più grandi per me o quali sono le difficoltà maggiori, perché non dobbiamo dimenticare che in questo momento l'architettura, diciamo, come arte o come pratica artistica qui ci tratterebbe di fare anche qui una discussione, è in una situazione particolarmente cattiva. Nei nostri anni, io non credo che sia, come dire, un giudizio che derivi dal fatto che io ho molti anni, ho 91 anni, e che quindi dalla mia vecchiaia guardi il passato come meglio, in quanto mi sembra che l'attualità possa soffrire. Però ci sono molti motivi, molto ovvi, se volete. Il motivo è che, naturalmente, c'è una crisi anche della comunicazione, crisi delle riviste, delle riviste architettura, non contano quasi più niente. Gli architetti non vogliono essere architetti, che vogliono essere degli star dell'architettura, degli archistar. E soprattutto, per così dire, si abbia a che vedere con una situazione molto diversa dalla quale io, per esempio, ho passato i miei anni di inizio dell'architettura, un periodo in cui ancora l'industria costituiva, per esempio, il centro di una grande situazione, che è in questo momento questo centro stabile, insomma, si è completamente dissolto, si è trasformato in una ipotesi, diciamo, di produzione radicalmente diverse, che probabilmente non abbiamo ancora affrontato, ma comunque ha una mobilità che non ha più niente a che vedere con il rapporto che aveva l'industria, diciamo, dal suo inizio, dalla fine del Settecento fino agli anni Cinquanta della nostra epoca. E soprattutto c'è una specie di, come dire, trionfo di una condizione globalista che ha una serie di, certamente, di grandi vantaggi per il confronto, ma anche di grandi problemi da risolvere, perché è una situazione che naturalmente conduce verso soprattutto il trionfo, forse anche inevitabile, degli strumenti di comunicazione, ma soprattutto il fatto che il capitalismo del mondo è un capitalismo finanziario globale, molto mercantile, molto in concorrenza, con una mobilità continua e che quindi non costituisce più un elemento di riferimento, per così dire, come lo è stato per tutto quanto riguarda l'arte moderna, perché in realtà l'arte moderna, intendo, da razionalismo in avanti, si era, come dire, connessa col problema invece di una stabilità diversa, anche il superamento dell'idea di nazione, che è certamente un passo in avanti molto importante, tuttavia costituisce anche nei suoi elementi una serie di difficoltà, propone una serie di difficoltà, perché le competizioni sono diventate continuamente competizioni di carattere globale. Io credo che un'analisi, diciamo, molto sommaria di tutto il mio sforzo di libro potrebbe essere sintetizzata in una piccola parte introduttiva che c'è all'inizio, dove c'è scritto, per essere molto esplicito, il scopo di questo testo è quello di cercare di capire se sia possibile ed utile riflettere sul percorso del progetto di architettura come racconto dei modi di prendere forma delle sue intenzionalità. E qua comincia naturalmente con la parola intenzionalità, una sua collocazione anche di tipo filosofico, senza per questo divenire espressione di un a priori ideologico. E anche qui c'è un problema di confronto con la costruzione ideologica, che con tutti i loro difetti hanno costituito però le direi di riferimento per molto tempo, che in questo momento si sono completamente, come dire, frantumate. Poi io dico che capire, cioè come l'architettura nel suo percorso progettuale, oltre che nei suoi esiti costruttivi, si offre anche come la narrazione della trasformazione dei materiali scelti in un'organizzazione di senso capace di una modificazione nuova e necessaria. E qui la complicazione diventa un po' ardua, infatti questi sono i temi che poi vengono espressi nel libro. Intanto la nozione di materiale, perché la nozione di materiale certamente non è solo, non riguarda solo i mattoni, ci hanno intramato il ferro, ci riguarda la teoria, la storia, la critica, tutti coloro che sono sforzati nelle loro teorie. Oltre naturalmente al fatto che in questo momento, è stato già detto, noi abbiamo un problema di scontro o di rapporto positivo, ma anche di scontro, non più con semplici materiali, ma con addirittura scienze compressive, sviluppate, che si sviluppano rapidamente e con le quali dobbiamo fare i conti. In più c'è questa idea di modificazione, perché io penso sempre che non si fa l'architettura dal nulla, si fa l'architettura perché dietro c'è una storia, perché ci sono dei problemi davanti da risolvere, perché ci sono diciamo una serie di elementi di rapporto anche col contesto dentro il quale questa architettura nasce, che comunque lo modifica, e quindi ci sono una serie di responsabilità che sono abbastanza più definibili come modificazioni degli esistenti che come creazione dal nulla. ecco io questa parola della creazione dal nulla non ci credo proprio, credo che noi abbiamo un modo di pensare le cose che devono essere quelle della loro organizzazione per appunto un destino, per appunto a partire diciamo dalle contraddizioni che naturalmente ci sono e ci sono possibili, fare in modo che la forma di architettura proponga un piccolo frammento di verità sia sulla critica del presente sia sulla possibilità del futuro, un frammento che non è detto che questo sia vero e soprattutto un frammento rispetto alla realtà del presente e qui comincia un altro problema di che cosa sia la realtà, dovrei qui cedere la parola al mio vicino che ha passato metà della sua vita a parlare di che cosa sia la realtà quello che è certo è che il tema di che cosa sia la realtà o che cosa sia diciamo la nostra critica alla realtà è diventa proprio complesso perché la definizione di realtà è molto difficile è molto, anche se si sta unificando il mondo su questo punto, si sta unificando dal punto di vista mercantile, non dal punto di vista della sostanza di che cosa sia la realtà ecco io questo diciamo programma che io ho introdotto ha naturalmente offre tutte le possibilità di... io stesso ho scritto a proposito, non mi viene in mente, un piccolo libro sulla realtà sì molti anni fa nel 2004 si chiamava realismo critico perché pensavo allora con un ottimismo che oggi non ho più che la nostra critica alla realtà potesse costituire la vera realtà possibile e necessaria e che invece diciamo probabilmente questo a noi è sembrato come dire scomparire dall'orizzonte c'è poi la... come dire... la struttura proprio del libro che è quello che vorrebbe la pena di spendere due parole insomma questo libro ha cinque parti diverse anche se tra di loro sono molto diverse di quantità c'è un'introduzione che credo che sia fondamentale di questo libro si potrebbe leggere l'introduzione se forse lasciar perdere tutto il resto poi ci sono diciamo una serie di... una sezantina di pagine nella quale appunto si affronta, si cerca di affrontare non direttamente come lo farebbe per esempio il mio amico qui accanto ma più indirettamente questo tema del rapporto con la realtà poi ci sono le quattro virtù di cui ha parlato prima lui precisione, semplicità, ordine, organicità che sono come dire modi di produrre man mano questa organizzazione che non perda su questa idea di modificazione e quindi dell'esistente da modificare e anche che non por... che usi la creatività per questo scopo poi c'è una quarta parte che è un po' uno stato delle cose la considerazione critica di cui ho cominciato a parlare prima delle difficoltà che in questo momento ci sono per noi architetti o perlomeno per quelli che io considero architetti che sono molto pochi noi qui abbiamo parlato di alcuni casi come quello di cui si parlava a proposito del rapporto tra l'architettura e il pensiero di Derrida io ho avuto la fortuna di conoscerlo abbastanza bene di essere abbastanza in amicizia con Derrida che mi seguitava a chiedere ma che cosa vogliono questi architetti che cosa desiderano perché non si capisce io quando parlo di decostruzione non ho niente a vedere con la costruzione la decostruzione è un'altra cosa completamente diversa comunque in questo come dire dibattito anche lui non si capiva molto insomma un po' di più si parlandogli a me sembrava di capirlo di più però questo non vuol dire che sia come dire una soluzione compiuta la cosa che poi di cui vorrei da ultimo parlare perché poi non voglio leggere tutto il libro non c'è questo interesse è che come dire per adesso mette tra parentesi anche le belle osservazioni che sono state fatte prima di me molto più acutamente e con anche come dire si può dire l'incentivo a produrre ancora di più di questo libro magari un'edizione un po' meglio costruita o meglio stabilita e anche come dire il pessimismo di cui parlavo all'inizio della situazione della condizione di questa architettura che vuole essere un'architettura soprattutto come dire molto vicina all'idea mercantile dell'architettura a questa idea perché ne ha parlato prima parlando diciamo delle grandi concentrazioni che so io nella parte dei paesi arabici o del sviluppo che sta avendo una parte della Cina insomma alcuni dei paesi proprio anche che stanno accanitamente cercando diciamo un successo lo cercano in senso globale e quindi come tale perdono ogni tipo di rapporto con la propria non dico tradizione ma con la propria storia che è una cosa abbastanza importante quindi c'è un interesse molto legato al globalismo del mercato cioè il globalismo del mercato è effettivamente l'unica cosa che distribuendosi attraverso le comunicazioni visive che sono diventate rapidissime continue e estremamente efficienti diventano il principio fondamentale a cui fare riferimento e a cui anche i cosiddetti archistar fanno riferimento ma io credo che tutto questo come dire scriva di enormi inefficienze io termino questo libro citando un mio grande amico che è Fran Gheri anche se abbiamo avuto sempre delle opinioni molto diverse per quanto riguardava l'architettura ma siamo stati come dire amici per tutta la vita che ha costruito a Cleveland che ha costruito sta tentando di costruire non so se l'abbia realizzato a Cleveland una clinica psichiatrica che sembra il ritratto di che cosa è rimasto dell'architettura sono una serie di facciate tradizionali con le finestre le quali sono come dire cadute una sopra l'altra e sono disposte orizzontalmente come una specie di copertura di un insieme e questa copertura naturalmente non ho capito se si tratta di una confessione anche di un grande architetto come lui perché naturalmente è un uomo di grandissimo come dire talento di come dire del definitivo crollo di questa idea milionaria della pratica artistica o della sua adesione estrema a una condizione del presente che io non riesco a cosvivere sovente come dire io sto in questo momento scrivendo un libro per esempio sul rapporto tra tempo e progetto parlo sempre del progetto e non della sua realizzazione perché di questo parlate tanti libri diversi ma in questo momento quello che mi interessa è la deviazione i cambiamenti o i mutazioni diciamo del processo progettuale nel quale il processo progettuale diventa molto spesso come dire compito di commissioni complesse di molti specialisti di vario tipo dagli strutturisti agli artisti alle persone che si occupano del rapporto col mercato tutte queste questioni e che chiedono all'architetto che cosa una immagine cioè qualche cosa che non ha niente a che vedere con quello che io penso sia l'architettura o debba essere l'architettura ne chiedono solo un'immagine e qualun'immagine naturalmente è destinata a circolare più rapidamente e ad essere conosciuta da tutto il mondo ma è un modo per uccidere questa pratica artistica io credo e in questo senso mi piace di tornare alla parola pratica artistica scrivendo questo libro che si chiama Tempio e Progetto che pubblicherò il prossimo anno se sono ancora vivo io credo che ci troveremo di fronte a qualche multazione di questa situazione oppure io appartengo ormai al passato e quello che scrivo sono delle speranze senza uscita grazie io ho molte ho alcune suggestioni e quesiti però se ce ne sono prima dalla sala diamo sempre la precedenza visto che così cortesemente ci avete già ascoltati se no io ho due o tre cose da da chiedere per approfondire ancora un po' questi temi se avete ancora la cortesia una decina di minuti ne farei una domanda diciamo così un interrogativo per te e per Maurizio un secondo sempre per te e per Franco Franco Purini poi magari anche una cosa finale più così anche scherzosa la prima è questa c'è un tema che ogni tanto emerge dalle pagine di questo di questo testo ma anche da altri tuoi è un certo senso di profonda amarezza per il fatto che la tecnica e la tecnologia non sono più solo un mezzo ma hanno preso il sopravvento su ogni prassi dell'agirumano cioè siamo in un'età in un'età di puro pragmatismo è vero ciò che funziona questo però è un tema che la filosofia del novecento ha affrontato parecchie volte persino un autore che piaceva tanto agli architetti come Heidegger che si citava tanto nelle facoltà di architettura più volte in più passi ripeteva come la tecnica sia anche una forma di disvelamento allora mi chiedevo ma perché noi che siamo tutti quanti al nostro modo vecchi ce l'abbiamo su così tanto con questo aspetto della tecnologia che non è più un mezzo che controlliamo ma è diventato il fine stesso che comprende il nostro stesso agire perché non riusciamo ad accettare questa dimensione che i giovani ad esempio la vivono ormai come una dimensione del tutto acquisita non se ne accorgono neanche diremmo questa è per voi due la seconda che magari può rispondere sempre tu a tutti e due anche con Franco è questa i racconti del progetto ripeto Morpurgo dice la tesi del libro restituire alla formazione discorsiva dell'architettura all'ordine del testo sotto il profilo della narrazione il ruolo di fondamento della pratica realizzativa allora pongo la domanda che è il titolo di un libro di Maldonado quando tornò dagli Stati Uniti è l'architettura un testo oppure non lo è cioè la dobbiamo considerare in qualche modo a forma di testo strutturato se anche questo discorso qui c'è come dire accentuare l'aspetto così del problema discorsivo narrativo del racconto di una grammatica generativa oppure questa era come dire un'ipotesi degli anni dello strutturalismo che ormai praticamente si trova ad essere del tutto superata un po' queste due ad esempio allora Vittorio Gregotti passa intanto la parola mentre a proposito della tecnica sì la questione della tecnica in realtà è complicata perché da una parte uno pensa quando pensa la tecnica pensa qualcosa di molto moderno pensa non so ma è qualcosa che ha a che fare con la plastica in realtà tecnica è anche un bastone un bastone una leva qualunque supplemento alle nostre doti naturali che sono molto povere l'uomo è naturalmente molto povero rispetto ad altri animali bene tutto questo è già tecnica per cui c'è un senso in cui non riesce a concepire l'umanità senza la tecnica anzi in un certo senso la nostra caratteristica specifica rispetto ad altri animali non umani è proprio il possesso di tecniche più sviluppate un'etimologia che può interessare che il termine imbecille deriva da imbaculum cioè privo di bastone nel senso che fa parte della natura umana disporre di tecnica e se non ne disponi sei un imbecille ovviamente ovviamente la cosa è a doppio taglio perché la tecnica come dimostrano bene per esempio i social media può diventare anche un veicolo per manifestare l'imbecillità e quindi ci sono le due cose cioè da una parte la tecnica è una fuga senza fine dai propri limiti e quindi anche dalla propria imbecillità che alberghi ognuno di noi e dall'altra però può diventare un megafono enorme della stupidità dell'insufficienza e nell'architettura questo lo si può vedere molto bene nel senso che da una parte l'architettura ha una funzione tecnica fondamentale perché quasi niente di tutto quello che noi facciamo potrebbe esistere senza la funzione dell'architettura se noi non avessimo un tetto sulla testa se non avessimo uno spazio che ci protegge delle funzioni che sono già garantite dovremmo continuamente correre nella savana inseguendo degli animali cercando di non essere mangiati da altri animali in condizioni di questo genere credo che il pensiero ne risentirebbe non poco oltre che la salute ma comunque sicuramente tutto quello che noi facciamo suppone anche semplicemente i libri come fai ad avere dei libri se non hai delle architetture che possano conservarli mantenerli eccetera quindi da una parte c'è questo elemento fondamentale della tecnica nella costruzione della cultura dall'altra poi ed è stato un grosso problema su cui Vittorio Gregotti insiste giustamente nel momento in cui la tecnica diventa di così facile realizzazione insomma è successo per l'architettura quello che succede per adesso per la scrittura nel momento in cui non ci vuole niente a pubblicare un tweet è il trionfo delle stupidaggini prima dovevi procurarti carta penna far arrivare il messaggio a qualcuno eccetera nel momento in cui quasi tutti gli elementi sono prefabbricati precostruiti e i limiti tecnici diventano quasi rilevanti perché tutto o quasi può essere fatto allora si può anche fare molto male oltre che molto bene io volevo ricordare intanto due cose due episodi che andrebbero su cui bisognerebbe riflettere quando 50 anni fa si diffuse tra gli architetti la problematica del luogo da parte soprattutto in Italia almeno di Norbert Schultz il saggio che fondò questa linea interpretativa ma anche negli scritti di Gregotti che per molti versi coincidenti e analoghi non si citava Heidegger tre anni dopo sembrava che la filosofia heideggeriana avesse generato negli architetti l'interesse per il luogo la stessa cosa è per la decostruzione un principio decostruttivo è alla base dell'architettura moderna c'è sempre stato noi potremmo leggere una sonomedia di Van Delsburg come la decostruzione di un prisma e poi questa tematica è stata assunta dopo come una derivazione architettonica di Derrida cioè bisognerebbe tener conto di queste interazioni complesse fra diverse forme di sapere o di operare no ma voglio dire una cosa qual è la condizione oggi dell'architettura nel mondo è sostanzialmente una specie neofunzionalismo che ha bruciato escluso tutti gli altri contenuti di natura più elevata dell'architettura non c'è dubbio e questo neofunzionalismo ha un braccio armato che è la tecnologia come fine e non più come uno strumento il risultato che cos'è? è una specie di esperanto architettonico che distrugge la specificità dei vari linguaggi e pensa che fare un'architettura significa globale un po' di architettura americana uno spruzzo di bon ton francese una nervosità britannica una escamotage olandese eccetera eccetera occorre quindi porsi il problema di che cosa sia oggi l'espressione architettonica che viene veicolata dall'informazione mondiale ha ragione Vittorio quando dice che le riviste non servono a niente ma la rete è inondata di fiumi di architettura che gli studenti guardano gli studenti non leggono più ma guardano costantemente e non hanno più il problema non si pongono più il problema di come penso io l'architettura fanno delle operazioni di combinazione di ibridazione fra quello che vedono proprio perché il neofunzionalismo ha bruciato appunto ha eliminato gli aspetti veri della scrittura architetturale sui quali si interroga stiamo parlando il libro di Vittorio io continuo a pensare che bisogna affrontare il drammatico problema della frontalità del presente e ricondurlo a una visione diciamo sintetica e come dire distinguendo i vari modi di pensare il tempo per esempio lo spazio non ridursi a una specie di formazione di formula valida dappertutto con gli stessi valori questo azzeramento è veramente una specie di genocidio delle espressioni e questo secondo me non vale la pena accettarlo supinamente quindi a partire per esempio da un libro con quello di Vittorio si può cominciare una riflessione su che cosa si può fare che cosa le giovani generazioni possono fare ad esempio mai rinunciare a una propria visione delle cose perché l'architettura è fatta da un soggetto in virtù di un uso collettivo non si può eliminare nessuno di questi due elementi quindi l'architettura deve esprimere la sua visione del mondo ma questa visione del mondo dovrebbe o deve essere accettata non da tutti non è possibile ma almeno da una parte consistente di coloro che abitano e quindi io per esempio essendo architetto lo ripeto devo essere per forza ottimista non si può essere pessimisti se uno è pessimista deve cambiare lavoro e penso che sulla base anche di riflessioni come quella che Vittorio ci dà da tempo si possono trovare alternative l'importante è avere di nuovo una vista prospettica sapere dove si vuole andare cosa che oggi non è comprensibile faccio un esempio fino a vent'anni fa si poteva dire che nel mondo c'erano 4 o 5 diciamo linee di ricerca in architettura 6 oggi non è più possibile fare un elenco sarebbe talmente lungo che aggenerebbe la stessa idea di architettura e quindi dobbiamo fare diciamo ordine nel nostro sistema nel sistema dell'architettura contemporane e cercare di diciamo mettere in evidenza quelle che sono le vere diciamo i veri contenuti del nostro mestiere visto ovviamente in evoluzione quindi a contatto con queste forze anche divergenti con le quali ci dobbiamo sicuramente confrontare quindi un grazie un saluto a Vittorio che aiuta noi in questa costante ricerca noi io racconto il progetto perché li condivido anche nel titolo perché una persona della mia generazione ce ne sono tanti come me hanno più progettato che costruito cioè la nostra è stata una vita di progetti e qualche volta di realizzazioni è un po' il contrario della della vicenda delle generazioni precedenti e quindi figuriamoci se non ci interessa diciamo il senso di questo titolo così profondo grazie prima delle conclusioni abbiamo ancora una domanda se puoi cortesemente più che una domanda è una testimonianza io ho avuto la fortuna di entrare nello studio di Vittorio Gregotti nel 58 più di mezzo secolo fa perché abitavo a Novara e un amico mi aveva intendevo iscrivermi alla facoltà di architettura e un amico mi ha consigliato di andare nello studio degli architetti associati erano tre architetti che lavoravano assieme e ho vissuto gli esordi del del lavoro di studio in cui mancava ancora quell'approccio storicistico che Gregotti ha riportato poi nello studio quando è venuto a Milano a essere a capo a capo diciamo direttore di Casabella assieme a Nathan Rogers e quella fase ha coinciso secondo me con un momento di evoluzione del suo pensiero in cui ha utilizzato per così dire la teoria per informare di contenuti la pratica architettonica la progettazione ha fatto una grande esperienza professionale importantissima e oggi per certi versi è l'architettura che viene utilizzata come pretesto per fare della teoria e direi persino della politica della teoria e della filosofia quindi diciamo questo libro è singolare perché l'unica immagine che c'è è in copertina e praticamente si parla di progetto come tu hai detto però come dire tenendolo su uno sfondo senza mai utilizzarlo direttamente nei suoi requisiti specifici di linguaggio di linguaggio detto questo che poi non so se corrisponde come interpretazione a quello che Vittorio pensa di sé nel nel guardare il la quarta di copertina ci sono è riportato l'incipit del libro che Vittorio ha citato mancano però in questo rivolto di copertina due parole che invece ci sono nell'incipit del libro che fa riferimento non solo alle forme come diciamo come mezzo per diciamo arrivare a un frammento di verità come a cui tu hai all'uso ma ci si riferisce alla diciamo interpretazione delle contraddizioni manca questo termine la contraddizione che per me è il motore della storia le contraddizioni sono il motore della storia e io credo che rispetto al discorso che ha fatto prima Franco della prospettiva che questo libro offre rispetto a un possibile futuro io penso che proprio coltivando il rapporto che tu come dire delle contraddizioni che tu citi sviluppi che questo discorso può essere auspicabilmente portato avanti senza questo tipo di attenzione secondo me non c'è nessuna prospettiva un'ultima cosa voglio dire il progetto di Gary per Cleveland secondo me rappresenta per certi nello stesso tempo un passo avanti e un passo indietro Gary ha avuto una prima esperienza professionale veramente banale poi ha fatto io ricordo di aver visitato la number school number one a New York dove c'era una piccola mostra che lo riguardava dove lui introduceva all'interno di alcuni elaborati progettuali degli elementi di paradossalità dei piani che non erano orizzontali delle finestre che erano scivolate che io avevo interpretato come un discorso diciamo di critica pessimista al modo di fare convenzionalmente l'architettura in senso banalmente professionale questo poi ha fatto tutte le sue diciamo esperienze diciamo paradossali dal mio punto di vista ma questo progetto di Cleveland è un edificio collassato ma è ancora riconoscibile come un edificio è essenzialmente riconoscibile come un edificio e quindi secondo me riprende quel momento critico che lui ha coltivato nel passaggio dalla professione banale a poi successo professionale che ha avuto e mi sembra che sia un aspetto su cui riflettere per certi versi grazie grazie Vittorio le conclusioni parto da quest'ultima conclusione io credo che sia così cioè l'interrogativo con cui termino questo libro parlando di questo è proprio il riconoscimento di una situazione estrema che pone un interrogativo a cui bisogna rispondere questa è la verità e questo è proprio vero cioè la contraddizione è arrivata a un punto talmente esemplare che non può essere annullata bisogna in qualche modo dare qualche tipo di risposte per quanto riguarda il problema della tecnica ecco io sono sempre del parere che come dire la tecnica non può essere un contenuto se esiste diciamo ancora con valore la parola contenuto cioè se fossimo stati ancora tutti dei grandi cattolici avrei detto che c'era l'architettura e poi il suo contenuto era anche la religione ecco ma qua il contenuto la tecnica come contenuto è un contenuto troppo vuoto un contenuto senza contenuto questo è il problema e quindi è vero visto che hai menzionato la religione pregate pregate la fede seguirà anche quello c'è nella tecnica certo non c'è dubbio però per me o per questo momento io credo che questa idea diciamo di della prevalenza della tecnica nel progetto è andato al di là del proprio bordo è diventato un elemento che come dire giustifica qualsiasi invenzione ed è la base anche dell'aspetto formalistico di molta dell'architettura moderna drammaticamente i mezzi giustificano il fine ecco e poi devo anche dire una cosa molto rapidamente io il mio primo esperienza diciamo internazionale quindi conoscenza del movimento moderno eccetera risale al 1951 tanti anni fa tanti anni fa nel 1951 sono stato ancora studente al convegno dei Ciam di Huddleston dove ho conosciuto quasi tutti i grandi architetti che esistevano sentiti parlare mangiato con loro ha avuto un tipo di rapporto assolutamente personale però anche con il risultato di uscire da questo Ciam con almeno tre o quattro indirizzi che i giovani specialmente le giovani generazioni non come la mia ma un po' più avanti di me una era quella di un ritorno allo storicismo ritorno allo storicismo che poi ha avuto diverse come dire diverse versioni alcune assolute di vero ritorno allo storicismo altre o come anche è stato diciamo poi quello che considera la storia in qualche modo un elemento da non poter eliminare poi c'è questo della tecnologia di cui parlavamo adesso che certamente rappresenta uno degli aspetti fondamentali perché c'era una spinta radicale a considerare la tecnologia come fondamento dell'architettura e poi una certa parte di populismo soprattutto i nordici portavano avanti diciamo l'idea di una struttura diciamo che tenesse conto delle condizioni generali e che quindi non abbassasse l'architettura ma facesse di queste condizioni generali il contenuto fondamentale dico questo che poi sono tutte e tre come dire tensioni che hanno avuto molti riferimenti diversi eccetera ma per dire come tutto questo oggi non sarebbe più neanche nominabile perché non esiste più una condizione nel quale ci sono delle correnti che decidono di andare in una direzione piuttosto che un'altra i fondamenti di questi correnti sono completamente scomparsi questa è la questione che io ho cercato di mettere in evidenza con questo librettino grazie grazie a tutti arrivederci buona serata grazie a tutti